Rispetto a questo costante refrain italiano per cui si dipinge l'Europa come un luogo nel quale veniamo a prendere i compiti da fare a casa, non è così. L'Italia sa perfettamente quello che deve fare, lo sa da sola, lo deve fare per il futuro dei propri figli e lo farà consapevole che oggi la priorità per il nostro paese è lavoro e crescita, crescita e lavoro. Vertice europeo, il primo per Renzi incentrato sull'Ucraina ma con una inevitabile coda economica all'indomani delle critiche della Commissione europea sugli squilibri macroeconomici del nostro paese, soprattutto nel giorno in cui Draghi, da Francoforte, esprime pieno sostegno alle parole del commissario Olli Ren sull'Italia. Meno composta la reazione dell'ex ministro dell'Economia Saccomanni che si è detto sorpreso dalla decisione della Commissione di classificare come eccessivi gli squilibri macroeconomici italiani, motivo sull'elevato debito pubblico hanno pesato e non poco i versamenti ai fondi europei salvastati e il pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione operazione, quest'ultima concordata e caldeggiata da Bruxelles. Saccomanni neanche per i commenti attribuiti al premier Renzi sulla non correttezza dei conti presentati dall'esecutivo Letta, incomprensibili e immotivati, dice, non ci sta quindi a passare per il capro espiatorio e questo mentre da Roma il ministero dell'economia comunque assicura dopo le parole della Commissione il governo non farà alcuna manovra correttiva, bensì prepara un corposo piano per favorire la crescita con particolare attenzione alla creazione di posti di lavoro. Del resto bisogna anche cogliere l'attimo fuggente sui mercati, Madrid e Milano hanno chiuso in territorio nettamente positivo e lo spread, dopo aver toccato un minimo di giornata di 174 punti base, è risalito fino a quota 179, solo un paio di punti in più rispetto alla chiusura di ieri. Il mondo della finanza non ha quindi riversato sui listini e sui mercati secondari dei titoli di Stato la delusione per la mancata attivazione da parte di Draghi. Di misure non convenzionali, niente sterilizzazione della liquidità utilizzata per acquistare titoli di Stato dunque. Si è concluso infatti senza novità il tanto atteso board della Banca Centrale Europea, nessuna decisione dirompente perché sostiene Draghi la moderata ripresa dell'Eurozona prosegue secondo le stime e i rischi legati all'andamento dell'inflazione sono comunque bilanciati. La BCE, dice Draghi, rimane pronta ad agire se necessario, anche queste parole ripetute più volte fanno stare tranquilli i mercati.